La villa che abbiamo in fondo invece davanti a noi, è una villa importante per la fine del Settecento. Era dei conchi arese lucini. I campari vengono qua, comprono tutto il terreno, comprono la villa. Si chiamava casa alta, diventa la villa campana. In quella villa i campari non hanno mai abitato. E oggi quella villa ha due giorni particolari. Siamo a terra, è un ristorante a trattato pubblico, ristorante ai campari. Il piano superiore è una scuola, si chiama Academy, è la scuola formativa per barman. L'unica azienda nel campo di bella è una scuola formativa importante.